Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su minecraft Oggi vedremo come fare la spada Eccola qui raga L'ho fatta per vedere se mi usciva E mi uscita ottima Ok Facciamola Dobbiamo fare Un Vabbè siamo in compagnia di Ok dobbiamo fare un 3x3 E un buco e mezzo E poi Mettete il blocco in cui la volete fare Non aspetta ho sbagliato E' sempre così solo che Ok così Poi facciamo 1 No aspetta mannaggia Sbaglio sempre il blocco 1 2 2 E 3 Lo facciamo così E così Una volta fatto ciò Lo facciamo così Così Rompiamo qui E questo lo facciamo di 2 Lo facciamo così 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 Lo facciamo così E rimuoviamo questo Facciamo così Facciamo 1 E rimuoviamo 1 E ne mettiamo di nuovo 1 Poi facciamo 1 Poi facciamo 1 e 2 E rimuoviamo questo Lo facciamo 1 E rimuoviamo quello Facciamo poi 1 Facciamo così 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 2 E 1 Ok E poi dentro lo facciamo In che colore vogliamo In questo caso arancione Me ne esce meglio raga E poi è semplicissimo Facciamo 1 2 3 4 5 6 7 E 8 Poi Prendiamo L'altro Altro Cosa Facciamo Verde 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 E Lo facciamo tutto Ok ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella raga